La cataratta si definisce un'opacizzazione del cristallino. Il cristallino è una lente che si trova all'interno dell'occhio, dietro la pupilla, e che progressivamente si opacizza. L'opacizzazione è determinata primariamente dall'età, ma anche da problemi metabolici, quali il diabete, o anche da traumi maggiori, forti, che possono praticamente portare a un'opacizzazione di questo cristallino. Purtroppo non esiste una terapia medica che possa curare la cataratta. L'unica opzione disponibile per il recupero della vista è effettuare un intervento chirurgico. Quali sono le tecniche per superare questo problema? La tecnica per la rimozione della cataratta è una tecnica standardizzata che si chiama facoemulsificazione. In particolare il cristallino all'interno dell'occhio opacizzato, che appunto come ho detto si definisce cataratta, viene aspirato e frammentato da ultrasuoni e viene sostituito da un cristallino artificiale customizzato, significa personalizzato per l'occhio del paziente e che permetta fondamentalmente un recupero visivo massimo per quelle che sono le capacità dell'occhio. In che cosa consiste questa operazione e appunto come viene posizionato il paziente stesso? Il paziente arriva in clinica, vengono installate gocce che dilatino la pupilla. Una volta che si è raggiunta una midriasi massimale, quindi una dilatazione massimale della pupilla, il paziente viene portato in sala operatoria dove viene posto su un lettino, la testa del paziente viene fissata e a questo punto viene posto un telino operatorio in modo tale da creare un campo sterile sull'occhio. Viene messa una molletta che tenga aperto l'occhio per evitare che appunto il paziente possa strizzare o chiudere l'occhio e viene posta una luce abbastanza forte del microscopio davanti alla faccia del paziente. Si chiede a questo punto al paziente di fissare la luce quanto più possibile ed evitare movimenti bruschi in modo tale che il chirurgo possa svolgere l'intervento in sicurezza. Il recupero funzionale dopo l'intervento di cataratta è abbastanza variabile e dipendente dal paziente. Esistono pazienti che recuperano in poche ore, altri in settimane. Si chiede però al paziente di instillare gocce con regolarità che vengono prescritte dopo l'intervento e di applicare una coppetta, una conchiglia protettiva per evitare che il paziente inadvertitamente possa toccarsi e portare infezioni all'occhio. Il paziente quindi viene, fa l'intervento e se ne torna a casa dopo qualche ora. È considerato un intervento ambulatoriale.